Buonasera a tutti, questa sera parleremo, è il terzo incontro del ciclo Chi ci curerà domani sulla sanità territoriale, sulla sanità territoriale di cui avremo bisogno e abbiamo dedicato l'incontro di questa sera al ruolo del medico di medicina generale nelle case della comunità. Devo dire purtroppo e con grande dispiacere che è una prospettiva che mi sembra che sia lontani. Intanto per dire una cosa, il decreto di agosto del governo attuale ha ridotto il numero, il finanziamento delle case di comunità, il numero delle case di comunità finanziate che passano da 1350 a 936, così come viene ridotto il numero degli ospedali di comunità. C'è la promessa che si reperiranno i fondi necessari per le altre che erano state programmate, ma tant'è che il contesto attuale non ci fa sperare niente di buono. Tant'è vero che il contesto attuale economico vede a livello nazionale una legge finanziaria che non stanzia risorse necessarie a gestire la prevenzione, la salute, l'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'uguaglianza nella sanità. In particolare ignora l'indispensabile sostegno economico ad un piano di assunzione degli operatori nella sanità che dovrebbe essere garantito, che dovrebbe essere assolutamente indispensabile. Tanto per dire una cosa, l'altro ieri c'è stato questo appello accorato dei medici del pronto soccorso di San Piero d'Arena nel nostro piccolo, nella nostra città, che la riduzione del personale quasi non gli permette di svolgere un'assistenza al pronto soccorso di natura minimo indispensabile. A livello regionale noi abbiamo assistito alla, come dire, alla bagarre in regione per l'approvazione del piano sanitario regionale, che è stato risolto con un atto di imperio della maggioranza che ha presentato un piano, ha presentato, ha approvato, ha fatto approvare un piano diverso da quello presentato della cittadinanza, di cui ancora adesso noi non, la cittadinanza non sa esattamente di cosa si tratta, quali integrazioni sono state apportate al testo che era, che noi conoscevamo, che era stato diffuso dagli emendamenti del Ministero della Sanità, che erano ben 15. e quindi ci troviamo con un piano sanitario regionale, socio sanitario regionale approvato, che però fino a questo momento noi non conosciamo bene, anche se riteniamo che probabilmente non si distacca in maniera notevole da quello precedente, che noi come organizzazione che hanno organizzato questa cosa, quindi Zenzero e questo è tutto, ma anche come fronte per la difesa della sanità pubblica abbiamo criticato per, come dire, da una parte l'inconsistenza, il fatto che è un piano in cui si ribadiscono i sacrosanti principi del decreto 77, senza però trasformarli in atti dagli gambe e quindi in atti programmatori che lo rendano operativo. E d'altra parte si dà spazio a ulteriori privatizzazioni, prevedendo per esempio la possibilità della gestione delle case di comunità Spock da parte dei privati e anche dell'assistenza domiciliare come possibilità che venga affidata in appalto. A questi aspetti negativi si aggiunge per fortuna un contesto sociale che sta dando segni di maggiore attenzione ai problemi della sanità, sia le manifestazioni, quella nazionale a Roma, della CGL, la via maestra cosiddetta, ma anche le manifestazioni regionali di due settimane fa e della settimana scorsa organizzate da CGL e UIL, davano molto spazio alla sanità nelle rivendicazioni di carattere di politica economica del governo. E viene visto quindi i problemi della sanità come un settore in cui c'è bisogno di intervenire in maniera forte e urgente. D'altra parte bisogna ricordare appunto anche la Costituzione del fronte Ligure per la difesa dalla sanità pubblica, di cui sia lo Zenzero che l'Ecoistituto, a cui aderiscono sia lo Zenzero che l'Ecoistituto, che ha organizzato per esempio il presidio per il piano sanitario regionale la settimana scorsa. Ma tornando al nostro tema, noi oggi vorremmo contribuire a disegnare la sanità territoriale di cui avremmo bisogno e in cui naturalmente il medico di medicina generale dovrebbe, non può non avere un ruolo fondamentale. Abbiamo scritto nel nostro manifesto, nella nostra locandina, che è necessario superare la criticità del lavoro isolato. Passando nel lavoro del medico di medicina generale, nell'assistenza territoriale, ad un contesto sanitario organizzato, per realizzare un reale rapporto di presa in carico della persona. Preferiamo usare questa parola invece che il termine paziente, come ci invitava a fare uno dei relatori dell'ultimo incontro, il dottor Pran. E quindi, questa sera avremo con noi il dottor San Pietro, che è stato direttore sociosanitario dell'ASD3 e attualmente consulente di Alisa, il dottor Marco Polese, che è un giovane medico di medicina generale genovese, e il dottor Pier Claudio Brasesco, medico di medicina generale storico. Tutti conoscono, tra l'altro, amico e socio dello Zenzero. Ecco, noi abbiamo pensato, prima di dare la parola ai nostri relatori, di ascoltare però l'esperienza di una collega, un medico di medicina generale di Parma, che lavora nella casa della comunità di Lubiana, per vedere come in quella realtà, come opera il medico di medicina generale nella nuova realtà della casa della comunità. Per cui, se mi permettete, io darei la parola per una decina di minuti alla dottoressa Ilaria Crialesi, medico di medicina generale di Parma, che lavora nella casa della comunità di Lubiana, chiedendogli appunto se ci racconta com'è questa sua esperienza di lavoro da medico di medicina generale nella casa di comunità. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei. Dunque, com'è la mia esperienza? Allora, vado rapidissima. Io sono un medico di medicina generale, lavoro a Parma da due anni e qualcosa. Prima ho lavorato in un'altra azienda, ho lavorato nell'azienda OSL di Reggio Emilia, sempre come medico di medicina generale e poi mi sono trasferita per motivi familiari, perché mi è nata una bimba e quindi facevo fatica a fare avanti e indietro. All'epoca lavoravo da sola, lavoravo come medico singolo, perché a Reggio hanno un'organizzazione un po' diversa, ma non è questo poi il contesto in cui discuterne. Allora, com'è cambiato il mio lavoro? Io vi dico cosa penso, io non sono un teorico, lo dicevo prima con Maria Teresa, non sono un teorico del progetto delle case della comunità, però vi posso dire da operatore che cosa è successo, che cosa sta succedendo e come la casa della comunità cerca di dare delle risposte in questo senso. Allora, è successo il Covid, è successo che è cambiata l'entità della domanda in qualche modo di salute, ma non solo di salute, perché il punto cruciale qui è proprio questo, che noi parliamo da operatori sanitari, ma non c'è solo la domanda di salute, c'è una domanda sociale anche e non solo di salute, perché le fragilità delle persone, il contesto in cui vivono, il contesto sociale e anche di salute, intesa proprio come l'OMS la più volte definita, sono cose fondamentali di cui ci dobbiamo occupare. Come ce ne occupiamo? Noi medici di medicina generale ce ne siamo sempre occupati in maniera singola, perché poi è indubbio che il nostro mestiere sia singolo, cioè da un certo punto di vista sei tu davanti al tuo paziente, al tuo assistito, che lo valuti a domicilio, in ambulatorio, valuti le sue problematiche, però tante volte ti portano come domanda di salute, come richiesta di salute qualcosa che con la salute ha poco a che fare, che le persone molto spesso associano a una problematica di salute, ma è una problematica magari di origine sociale, di origine economica, o comunque di altro genere. Allora, essendo cambiata la domanda, ahimè la risposta non ci sta dietro, no? Abbiamo sostanzialmente una mancanza di risposta, per esempio specialistica, o comunque dal punto di vista solo ed esclusivamente medico. Allora, perché? Qual è il nostro ruolo? Quale dovrebbe essere, a mio avviso, insomma, il ruolo del medico di medicina generale? Una volta si parlava del medico gatekeeper, no? Del medico cancello, cioè far passare e far valutare le persone se hanno necessità o meno di consulenze specialistiche e quant'altro. E poi, insomma, da lì è chiaro che è una visione molto parziale, è una visione che non va bene, perché non è sufficiente allo stato attuale dell'evoluzione, ecco, della cosa pubblica in generale. Allora, io chiamo il ruolo del medico di medicina generale il ruolo di system keeper, no? Cioè, è un ruolo molto particolare, di fatto è unico nel suo genere, perché il medico di medicina generale è colui che conosce bene non solo la persona, non solo la storia della persona, conosce la storia della famiglia, conosce le abitudini di vita, conosce dove vivono i suoi assistiti. Allora, perché la casa della comunità può essere un po' una svolta in questo senso? Perché noi medici di medicina generale non siamo più da soli. Fisicamente, perché nell'ala di fianco, in particolare nella mia realtà, abbiamo il comune, abbiamo gli assistenti sociali, abbiamo gli sportelli comunali che riguardano appunto il sociale e abbiamo anche i volontari. Questo, il ruolo del terzo settore sta diventando sempre più importante. tenete presente che la nostra esperienza è giovane, nel senso che abbiamo aperto ad agosto del 2022, quindi stiamo ancora imparando a conoscerci. Detto ciò, la facilità di accesso, sia per noi professionisti, sia soprattutto per le persone e le famiglie, ovvero uno stesso luogo di cura che sia prossimo, perché la prossimità delle cure, secondo me, è la risposta a questo cambiamento che c'è stato di domanda di talute. Allora, la prossimità delle cure, il fatto che siano nello stesso luogo, facilita anche alcuni accessi di alcune famiglie, di alcune situazioni, di alcune persone che potrebbero essere problematici nella visione, diciamo, precedente delle case della salute e dei servizi, diciamo, sociale e sanitario in qualche modo separati. Ma questo, insomma, perché ha un senso? E perché faciliti la presa in carico globale dell'assistito, faciliti determinati meccanismi che altrimenti sono un po' sono un po' complessi, no? Da scardinare, per cui prendo la richiesta, vado al CUP a prenotare e poi dopo devo andare dall'assistente sociale per la mamma, allora vai dal medico, fatti fare il modello C, la faccio per dire, adesso sono tutte cose un po' tecniche, però per far capire quanto sia in realtà molto meglio avere tutto per l'assistito e anche per noi sanitari. Nello stesso luogo, perché, non so, faccio un altro esempio, noi medici di medicina generale veniamo a conoscenza di una problematica sociale, prendo, mi alzo dalla sedia, faccio il corridoio, vado dall'altra parte, busso, ragazze ci siete oggi agli assistenti sociali, perché ho bisogno di fare un accesso congiunto, di capire quando riusciamo a fare un accesso congiunto al domicilio di questo paziente, perché mi ha telefonato il figlio che pare che ci siano delle problematiche, non hanno riscaldamento, non lo so, insomma, tutte cose che sono accadute. non solo, ci sono gli specialisti, ci sono ovviamente gli infermieri domiciliari che sono preziosissimi dal punto di vista anche del capire determinate dinamiche del domicilio delle persone, perché un ruolo fondamentale lo giocano gli infermieri. Dovrà arrivare, perché gli infermieri domiciliari sono comunque aziendali, sono Aslan, dovrà arrivare, ne stanno parlando, insomma, secondo me a breve, insomma, nel giro di qualche mese dovrebbe arrivare effettivamente l'infermiere, la figura dell'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità, adesso non mi ricordo come si chiama, scusate, ma è quella figura che entra in gioco un po' come collettore anche lui di tanti bisogni e, insomma, delle problematiche delle persone. E niente, io sono molto entusiasta, perché anche da medico di medicina generale, è vero, io non sono un medico vecchio, cioè non sono un medico anziano come servizio. ho però 38 anni, non sono neanche più di primo pelo, mi viene da dire, perché ormai lavoro da 12 anni. E ecco, anche in questo senso, lo dico proprio come sentito personale, è vero, è indubbio, è innegabile che ci sia una sorta di burocratizzazione della nostra professione e il lavoro in team così determinato, comunque, che si sta determinando è molto, molto più soddisfacente prima di tutto, perché si curano meglio le persone e perché proprio si lavora meglio. Non lo so, io speravo di riuscire a farmi un canovaccio per seguire qualcosa, un filo logico con cui dire le cose, non so se ho detto tutto, probabilmente no, mi farete delle domande se riterrete e io vi ringrazio tanto e spero di essere stata dentro il termine datomi. Grazie. Grazie, dottoressa Crialesi, è stata preziosissima in questa sua presenza, io spero che lei possa fermarsi per tutta la durata dei nostri incontri in modo da eventualmente interloquire con i nostri relatori o con il pubblico presente in sala. Assolutamente, a un certo punto era mia figlia, scusate, ci sarà un po' di confusione perché mia figlia ha tre anni e vorrà stare con la mamma, ma ce la posso fare. Grazie, scusate. È un pezzo di umanità che irrompe nei nostri discorsi, benissimo. Allora, io chiamerei al tavolo qui i nostri tre relatori. Abbiamo il dottor San Pietro, se puoi venire, il dottor Brasesco e il dottor Polese. abbiamo fatto questa scaletta, a caspita sì, però bisogna montarle, te le mandiamo, se le dai a lui, te le manda avanti lui. Allora, dicevo, il primo intervento sarà del... Ci siamo? Del dottor Lorenzo San Pietro, che è stato fino a pochi mesi fa direttore associo sanitario dell'Adox, del Genovese, e attualmente consulente di Alisa. e quindi in questo doppio ruolo direi che è prezioso il suo contributo. Nel ruolo precedente, nel senso, è il... Tu avevi il ruolo di tenere i rapporti della struttura sanitaria, dell'istituzione sanitaria della ASG con i medici di medicina generale. Nel ruolo attuale, come consulente, sarà una cosa un po' particolare, però forse ci puoi dire in che... È l'ultimo, il percorso... Ci potrei dire come la regione Liguria si sta muovendo verso le case della comunità. Grazie. Grazie a voi per l'invito, ovviamente, in mezzo amici, colleghi, e ovviamente alla platea dei cittadini, che io sono un cittadino, sono un anziano, scusate, la voce è un po' bassa, ma perché, ahimè, sono stato colpito da una forma parainfluenzale in questi giorni, sta circolando molto, quindi... Quindi, dicevo, ho sentito con piacere la giovane collega, giovane, perché ha 38 anni, e anche se ha detto di avere 12 anni di esperienza, ovviamente, come medico di medicina generale, e qua vicino ho un giovane collega che probabilmente appunto ci farà la sua relazione, con cui in passato ci siamo anche confrontati, barra scontrati, ma sempre in modo costruttivo, ecco, anche perché, come vedremo, cioè il rapporto oggi fra il sistema sanitario nazionale e i medici medicina generale, così come anche con i pediatri di libera scelta e anche con gli specialisti convenzionati, passa attraverso il cosiddetto ACN, quindi un accordo collettivo nazionale che viene discusso in Ministero fondamentalmente, e poi trova a livello locale, quindi a livello regionale, una forma attuativa, non modificante l'ACN, ma una forma attuativa che è il cosiddetto accordo integrativo regionale, attraverso tutto questo passa poi ciò che il sistema sanitario nazionale nell'ambito delle cure primarie fornisce come assistenza sanitaria. Come diceva prima la collega, ormai anche il concetto di salute che ci propone l'OMS è cambiato, ormai si parla non più di salute di benessere, che è qualcosa di più rispetto alla salute, ormai le nostre esigenze, almeno di cittadini della società del benessere, perché poi ci sono società in cui ancora questo non è realizzato, è quello del benessere. Chi ha vissuto il sistema sanitario negli ultimi 30 anni ha visto tutto un susseguirsi di cambiamenti. Noi abbiamo un ottimo sistema sanitario, anche se fra virgolette fatica a nuotare nelle varie ripercussioni economiche che ci sono state negli ultimi vent'anni e nel susseguirsi di riorganizzazioni, quella del PNRR è l'ultima, che a fronte di una progressiva difficoltà economica e quindi anche conseguentemente organizzative hanno cercato di salvarlo. Ma ce l'abbiamo ancora, va tenuto stretto, secondo me io sono un sostenitore del sistema pubblico, anche se in un primo e lontano momento ho lavorato anche nel privato, quindi ne ho toccato un attimino la consistenza e ritengo che un sistema sanitario pubblico, così come ci ha consegnato la legge 8333, quindi basato sulla universalità dell'accesso, sull'eguaglianza, sull'equità, è fondamentale anche per il sostegno della struttura sociale, quindi per il benessere non soltanto della salute. Come dicevo, se vai con la prima slide, diciamo che il nostro sistema sanitario ha subito o meglio ha avuto diversi salvataggi nel corso degli anni, quindi partiamo dalla 833 del 78 che si ispirava comunque al modello anglosassone, quindi a quella che era la strutturazione sanitaria che è nata nel lontano 46 in Inghilterra che anche lei sta naufragando abbondantemente forse più di noi successivamente per le difficoltà ripeto economiche che erano sull'entrata ma anche la necessità quindi di riorganizzare abbiamo avuto l'introduzione della norma del 92 successivamente quindi un salvataggio la 229 la cosiddetta legge Bindi poi abbiamo quella che qui non ho inserito del 2012 che ulteriormente ha inserito delle novità che poi vedremo rapidamente probabilmente o di cui parleranno i miei colleghi medici di medicina generale cioè la medicina di gruppo le AFT e le UCCP la cosiddetta legge Balduzzi sia AFT che UCCP onestamente ad oggi non hanno trovato una reale attuazione un po' di più le AFT almeno dal punto di vista formale non le UCCP almeno non nella realtà Liguer poi vi dirò rapidamente in cosa consiste il DM quindi a questo punto non siamo di fronte ad una legge ma siamo a un decreto ministeriale quindi che apre la strada all'attuazione del PNRR in realtà ci dà ci consegna fra virgolette lo strumento per cercare di riorganizzare il sistema sanitario e fare sì che nelle sue migliori espressioni possa fornire quella richiesta di salute che effettivamente è cresciuta negli anni è cresciuta per vari motivi non ultimo anche l'invecchiamento della popolazione tutte le comorbidità quindi le patologie croniche che si porta dietro ed è cresciuta anche in base alle aspettative appunto di benessere come dicevamo prima delle persone contemporaneamente abbiamo avuto appunto le crisi economiche ma anche un aumento importante dei costi della sanità la sanità è evoluta in questi decenni attualmente abbiamo a disposizione sia trattamenti sia diciamo diagnostiche molto più avanzate rispetto a vent'anni fa ma questo ha comportato un aumento dei costi quindi anche a parità di investimento del PIL di percentuale di investimento del PIL mi sembra poi di avere forse inserito in qualche cosa fra i paesi diciamo comunitari maggiori noi siamo quelli che investono meno come in termini di PIL ma corrispondentemente non c'è stato rispetto all'aumento dei costi della sanità un corrispondente aumento dell'investimento del PIL a fronte di costi che come dicevo sono aumentati quindi in realtà a conti fatti c'è una riduzione dell'investimento il piano socio o meglio scusate il DM77 fondamentalmente indica quali devono essere i contenuti di un nuovo servizio sanitario nazionale uniforme quindi uguale in tutta Italia perché se parliamo di uguaglianza ed equità il servizio deve essere erogato in qualunque regione in qualunque territorio allo stesso modo nel modo più efficace possibile introduce quindi quelle che sono state le migliori esperienze italiane ed europee e mondiali direi quindi sentiamo parlare di casa della comunità ma la casa di comunità per esempio la collega lavora in Emilia Romagna e lì esiste da diversi anni casa della salute casa di comunità nel PNRR abbiamo la figura dell'IFEC l'infermiere di famiglia e di comunità una figura che altre regioni ma anche la nostra regione ormai da cinque anni circa ha sperimentato e sta introducendo che rappresenta un nodo fondamentale nella rete di prossimità proprio in relazione nella relazione nel sostegno all'attività dei medici di medicina generale e della casa di comunità introduce la COT la centrale operativa territoriale che in Veneto è già operativa dal 2014 se mi ricordo bene e che ha diciamo un ruolo importante nel coordinamento della presa in carico e della transizione di cura degli assistiti introduce l'unità di continuità assistenziale cioè introduce tutto un insieme di diciamo servizi che rappresentano diciamo l'esperienza migliore di formazione della sanità se sono troppo lungo me lo dite e mi tagliate ho cercato di fare poche slide ma poi mi vengono in mente diverse cose quindi tutto un insieme di strutturazione dell'assistenza ma la casa di comunità rappresenta proprio il nucleo di tutto questo casa di comunità SIAB che spoke poi probabilmente ne parleranno i colleghi della differenza di tutto questo perché rappresenta il punto di riferimento dove il cittadino troverà e questo è quello che stiamo costruendo abbiamo iniziato già tre anni fa praticamente sta andando avanti io adesso non mi occupo più direttamente di questo ma le progettualità sono state portate avanti dove il cittadino troverà l'equipe multiprofessionale questa è l'evoluzione anche sul ruolo del medico di medicina generale nel senso che le cosiddette UCCP che rappresentavano le unità complesse delle cure primarie in cui è rappresentata la multiprofessionalità ovvero sia accanto al medico di medicina generale in tempo reale sono presenti i medici specialisti delle varie branche l'infermiere che può essere l'infermiere di comunità ma anche l'infermiere semplice e altre forme professionali che accolgono l'utente e che garantiscono la reale presa in carico delle problematiche che questo utente può presentare utente che per quanto riguarda gli altri percorsi trova ovviamente tutto un insieme di servizi all'interno della casa comunità non ultimi quelli sociali nella progettazione delle case di comunità fatta in Asdre io vi parlo della mia esperienza ma di massimo è estendibile a tutta la Liguria è stata completata l'integrazione con i servizi sociali in questo caso del comune di Genova ma anche degli altri comuni ovviamente che fanno parte della conferenza dei sindaci noi avevamo già diciamo ormai dal 2015 se mi ricordo bene fatto un accordo con il comune per condividere una piattaforma informatica quindi la condivisione in tempo reale dei dati questa è in fase di ampliamento su tutto un altro insieme di dati anche se come sapete poi c'è sempre il problema della privacy che alle volte è ostativa su alcuni percorsi ma comunque questo sarà portato avanti ci sarà anche la copresenza fisica quindi nelle case di comunità che sono in fase di realizzazione nel senso da prima essere partita perché era già stata progettata in questo modo come casa di salute è quella del distretto 10 quindi a Bolzaneto in cui quindi avevamo già previsto anche spazi per gli assistenti sociali del comune di Genova così come era già prevista la collocazione anche dei medici di medicina generale in questa unità integrata multiprofessionale allo stesso modo in questo tipo di progettazione sono stati previsti gli ospedali di comunità in regione Liguria non ci sono stati abbattimenti del numero di case di comunità per quanto riguarda invece gli ospedali di comunità nell'ASL 3 ne abbiamo progettati 4 fondamentalmente che risponderanno sia al fabbisogno delle aree interne perché voi sapete la Liguria ha un'orografia piuttosto complessa quindi a parte la fascia costiera che comunque ha le sue complessità di mobilità abbiamo delle valli interne in cui ovviamente la distanza da quella che sarà l'hub della casa di comunità in parte sarà compensata dagli spoke delle case di comunità hub e in parte anche dalla collocazione in quelle sedi dell'ospedale di comunità che sarà di nuovo uno strumento consegnato mi auguro nelle mani dei medici di medicina generale in stretta collaborazione con ovviamente il servizio sanitario nazionale so che ve ne parleranno probabilmente o ne avete già parlato così come dell'infermiera di comunità quindi tutto un insieme di nodi di strutturazione che tra virgolette se chi sta andando avanti adesso riuscirà a portarli a compimento così come sono stati iniziati dovrebbero garantire la sostenibilità del nostro sistema sanitario certo con un modello diverso questo sicuramente se vuoi andare un attimo avanti qui vi ho messo semplicemente qualcosa legata alla crisi delle cure primarie che stiamo vivendo adesso si legge abitualmente sui giornali di tutta Italia che mancano i poli di continuità assistenziale la cosiddetta guardia medica perché non si riescono a trovare medici che in qualche modo subentrino a chi va in pensione piuttosto che a chi ovviamente passa un'attività di tipo diverso allo stesso modo ci sono sempre più zone carenti di medici di medicina generale che non trovano la copertura quindi ci ho detto avanti ci ho detto quindi sicuramente pille importante il numero di medici di medicina generale per la gobba pensionistica che peraltro era già prevedibile 20 se non 30 anni fa ahimè sta sempre più diminuendo anche se in realtà il rapporto con il numero di medici di medicina di medici non di medicina generale ma di medici rispetto alle altre nazioni europee è in equilibrio ma diciamo l'elemento critico è che rispetto ai medici invece generalisti ai medici di medicina generale noi ne abbiamo meno abbiamo una percentuale inferiore perché è una professione che negli ultimi anni è diventata sempre meno appetibile quindi ben venga che ci siano giovani medici che invece rimangono meno appetibile per tutto un insieme di problematiche che non sono solo quelle dello stipendio sicuramente è uno degli elementi ma anche per la complessità di questa attività complessità che è legata sicuramente ad una burocratizzazione è legata ad un contenzioso sempre maggiore con i pazienti quindi a tutto un insieme di situazioni ma se noi vogliamo andare a vedere complesso non è l'oggetto di questa sera in realtà la carenza drammatica e maggiore ce l'abbiamo proprio sulla figura degli infermieri ne mancano decine di migliaia io adesso non vi ho portato qua nulla che vi faccio a vedere quanto è poco appetibile la professione comunque potete andare a cercare sul sito del ministero dell'istruzione in particolare del mio in particolare a fronte dei bandi che sono stati fatti quest'anno quindi autunno del 2023 per i test di accesso alla facoltà di scienze infermieristiche nel centro nord Italia non nel sud nel centro nord Italia il numero di domande per partecipare ai test è stato inferiore al numero di posti messi a bando questo ci dice quanto questa professione oggi sia poco appetibile nonostante diciamo il ruolo dell'infermiere e sicuramente anche dell'infermiere di comunità sia cruciale nella nuova organizzazione del modello sanitario proposto del PNRR andiamo avanti non ve lo voglio fare lungo qui no no due minuti e finisco vedete un attimino vi ho portato i dati in Italia del 2021 e i dati invece dell'ASDRE cioè del nostro territorio se torniamo un attimo indietro sotto come vedete qui abbiamo il confronto fra il numero comunque dei medici di medicina generale dei periodi di libera scelta a gennaio 2022 quindi stiamo parlando di un paio di anni fa ormai quasi e quelli a ottobre quindi dato di questi giorni come vedete da 482 siamo passati a 453 che significa sembrano pochi ma sono tantissimi perché se noi andiamo dieci anni indietro ce n'erano ancora di più e quindi il gap è diventato ancora maggiore avanti va bene qui lasciamo questo lo possiamo lasciare comunque fondamentalmente è una professione che dalle sue origini ha subito molti cambiamenti avanti e quindi anche adeguamenti diciamo a quelle che erano le necessità andiamo pure all'ultima perché se no la faccio molto lunga in effetti oggi è necessario pensare ad avere avanti ancora andiamo proprio all'ultima è necessario perfetto lasciamo qua è necessario pensare ad un cambiamento del rapporto contrattuale con i medici di medicina generale punto interrogativo questo è stato oggetto di discussione ormai da qualche anno direi da quando è arrivato il covid abbiamo sentito parlare da parte della collega e un sistema già abbastanza alle corde è stato completamente stressato probabilmente sì nel senso che per tutto un insieme di motivi l'attuale ACN non consente probabilmente un governo soddisfacente di questa professione così importante colonna portante di tutto il nostro sistema sanitario rispetto a quelle che sono le aspettative la mission e gli obiettivi di un sistema sanitario pubblico le ipotesi che sono state formulate nell'ambito delle conferenze Stato-Regioni perché queste discussioni ovviamente si sviluppano in quella sede sono diverse una diciamo una delle più gettonate è la dipendenza oppure una forma di accreditamento da realizzare con una modifica importante dell'attuale ACN che vincoli in qualche modo diciamo il medico di medicina generale pediatra di libera scelta ma anche diciamo il medico specialista convenzionato sono tre contratti diversi ma comunque sempre trattati attraverso un accordo collettivo lo vincoli alla sede che diciamo il sistema sanitario ritiene più idonea per erogare le prestazioni ad un orario che è quello ovviamente necessario per portare avanti la progettualità di una casa di comunità e anche a degli obiettivi che devono essere raggiunti che sono quelli ovviamente di interesse generale oppure ci potrebbero anche essere forme diverse ora nelle slide precedenti avevo presentato cosa accade all'estero ecco quindi nei principali paesi europei ci sono forme diciamo miste di questo tipo oppure anche una diciamo convivenza nell'ambito della nostra forma contrattuale per i professionisti del sistema sanitario nazionale sia della dipendenza sia di un accreditamento con delle diciamo aperture verso obiettivi che siano di interesse comuni quindi le ipotesi sono tanti direi che il passaggio alla dipendenza è una ho visto delle più gettonate personalmente ho difficoltà a pensare interamente a un passaggio alla dipendenza anche se ne capisco la motivazione nel senso che noi cittadini siamo abituati ad avere uno studio di prossimità cioè davvero lo studio dell'america di medicina generale abbastanza vicino a noi è vero che diciamo l'apertura agli spoke della casa di comunità diciamo potrebbe in parte correggere tutto questo però sicuramente dovremo adattarci a qualcosa di diverso cioè arrecarci verso un centro identificato che magari non è vicinissimo a casa nostra dovremo abituarci visto che lì parleremo di un'equipe multiprofessionale cioè corrispondentemente alle UCCP a non trovare sempre lo stesso medico ma uno dei medici che appartiene a quel pool quindi che sicuramente avrà grazie alla formazione digitalizzata eccetera eccetera la cartella digitale tutte le informazioni sul nostro caso ma non sarà magari la persona che oggi troviamo nello studio quasi sempre la stessa che quindi ci conosce con cui abbiamo un rapporto diciamo stretto ecco di confidenza il vantaggio sicuramente di un sistema di questo genere sarebbero che lì si realizzerebbe direttamente la prima veramente la presa in carico perché se ho bisogno di fare un esame strumentale verosimilmente trovo già in quella sede la possibilità di farlo subito e quindi di non dover poi fare una pronotazione una cup eccetera e quindi fra virgolette perdere anche tempo eventualmente o avere difficoltà vista la presenza di liste di attesa trovo anche una consulenza più o meno immediata da parte del medico specialista trovo eventualmente il supporto dell'infermiere di comunità che già probabilmente conosce le mie problematiche trovo già l'apertura verso un percorso fra virgolette se necessario di tipo sociale perché ci saranno ripeto anche le componenti sociali quindi trovo una facilitazione di tutti questi aspetti questo è quello che si sta progettando in questo momento diciamo che il luogo fisico è già stato avanzato tranne due ospedali di comunità perché devono essere edificati ex novo sono stati fatti progetti sono stati approvati quindi adesso sono in corso le gare per applicarli direi non aggiungo altro perché se no mi dilungo effettivamente troppo lascio la parola ai miei colleghi ed eventuali domande bene ringrazio dottor San Pietro grazie mille ho apprezzato molto da subito l'iniziale richiamo all'importanza del servizio sanitario pubblico così come è stato importante secondo me aver introdotto il problema del rapporto di lavoro del medico di medicina generale i temi sono veramente tantissimi hai accennato a problemità veramente grandi io non so vedo le case della comunità in Liguria come una realtà molto molto lontana non vedo la programmazione di un modo di funzionare di lavorare di riempirle di una cultura diversa nell'assistenza territoriale e di personale idoneo per realizzarlo comunque è giustissimo muoversi nella direzione in cui diceva il dottor San Pietro che ha ripreso integralmente mi sembra i contenuti del decreto 77 darei la parola adesso io con il pietro non mi sei d'accordo che parla certo al dottor Polese appunto perché come vive questo percorso in quanto giovane medico praticamente della stessa età della nostra collega o meno capelli sono leggermente più giù però sì ci siamo va bene come vuoi si sente meglio perfetto la collega c'è tra l'altro ci sei ancora? Crialesi Ilaria Ilaria ci sei ancora perché avevo qualche domanda sì 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 ci sono ciao Ilaria piacere di conoscerti ciao ti chiedevo due informazioni prima di fare il mio intervento quante case di comunità ci sono a Parma allora le stanno trasformando perché Parma ha una storia di case della salute molto 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 importante nel senso che sono 20 Parma e provincia sono 26 26 e più o meno la popolazione di Parma sono 200.000 persone giusto? sì la provincia va più su Parma la città è un 180 190.000 180 forse e la provincia va più su non te li so dare questi dati precisi una volta li sapevo ma adesso non ci siamo va bene ma a grandi linee saremmo su 350.000 persone può essere più o meno guarda aspetta un attimo che guarda va bene ok grazie era semplicemente per fare un ragionamento un po' più terra terra e sono un po' un più praticone da questo punto di vista allora sul distretto 11 che è il distretto in cui lavoro io io lavoro a Castelletto il distretto 11 va da via del Lagaccio a via Isonzo 450.000 perfetto 450.000 e poi mi dà tutta la provincia perfetto allora il distretto 11 che sono appunto quella zona quindi tutto il centro storico da via del Lagaccio a via Isonzo sono 110.000 persone 158.000 158.000 persone tutto il ringrazio dottor San Pietro con cui ho avuto in passato da rappresentante sindacale modo di riconoscere le sue doti soprattutto la sua pazienza e precisione e oggettivamente soprattutto la pazienza nella vera che fare con noi comunque più o meno quindi in un terzo un po' di più di un terzo della Parma e provincia dove ci sono 26 case della comunità case della salute scusatemi che poi saranno trasformate ma sono comunque strutture comunque la case della salute già deriva dall'UCCP quindi c'è già una multidisciplinarità all'interno per farla semplicissima in un certo qual modo e ce ne sono 26 nel distretto 11 ne sono previste due a Genova che sono via Sarotti e Corso Solferino tra l'altro perché erano strutture già esistenti di ASL che sono due strutture che sono a circa 500 metri in aria di distanza l'una dall'altra quindi noi dobbiamo mettere il punto sulla prossimità di cui parlava giustamente il dottor Sampietro la prossimità in questo momento con il progetto in essere delle case della comunità in Liguria è molto a rischio sostanzialmente noi partiamo da un presupposto diverso come struttura territoriale dei medici di famiglia soprattutto sulla strage genovese noi abbiamo un alto numero di medicini di gruppo quindi è difficile è quasi è quasi residuale il numero di medici di famiglia che lavorano da soli noi abbiamo circa 70% di medicini di gruppo io lavoro in medicini di gruppo in cui siamo 4 medici con servizio di segreteria e infermeria quindi noi partiamo da un qualcosa di diverso noi in questo momento il mio rischio ogni volta che parlo anche con addetti ai lavori e non è che si veda un po' nella casa della comunità la panacea di tutte le problematiche perché perché noi un lavoro come fanno Parma come fa Ilaria in questo momento potremmo farlo in solo nel nostro caso in due strutture dove ora non mi ricordo i numeri comunque parliamo di 456 medici di famiglia che ovviamente non potranno tutti lavorare all'interno delle case con la comunità previste in AS3 per un discorso uno di prossimità che non c'è fisica due perché se no saremo in 20 per volta tutti lì a guardarci negli occhi sostanzialmente o avrebbero bisogno di padiglioni interi sostanzialmente per contenerci tutti quindi è un qualcosa che non è fattibile è fattibile ed è veramente importante la casa della comunità come un centro per noi medici di famiglia per i nostri pazienti di accesso a determinati servizi che ora sono molto difficili da raggiungere in primis i servizi sociali eccetera eccetera che in questo momento anche per noi stessi sono veramente complessi attivare una procedura di presa in carico dei servizi sociali per i nostri pazienti a oggi è una procedura molto complessa molto lunga abbiamo a che fare con dei professionisti e delle professioniste magnifiche sotto sotto numero in difficoltà eccetera eccetera ma proprio la nostra capacità di accesso e di contatto è veramente complessa questa è la stessa cosa che vale per gli specialisti altro grosso tema importante contando un'altra cosa che in questo momento io parlo per l'AS3 non esiste una presa in carico specialistica domiciliare che è un'altra problematica enorme in una popolazione molto anziana molto fragile dove tutto è difficile quindi noi speriamo che la casa della comunità sia ovviamente un luogo di facilitazione di alcune cose noi sappiamo con che abbiamo a che fare sappiamo come trovare in maniera semplice non potremo mai fare quello che fa Ilaria mai perché tecnicamente noi non potremo mai fare io non potrò mai lavorare in un posto in cui vado alla porta a fianco a valore specialista perché lo potrà fare chi dei nostri colleghi lavorerà in queste strutture ma fisicamente non potremo essere tutti quindi è questo che voglio stressare un po' il concetto noi dobbiamo capire i bisogni della popolazione i bisogni sono la capilarità del medico sì i bisogni sono io qualsiasi giorno della settimana voglia a qualsiasi ora per qualsiasi motivo trovi qualcuno che mi visita che non sia il mio medico che abbia i miei dati adesso ad oggi l'integrazione dei sistemi informatici è lontanissima dall'essere dall'essere fatta e il dottor San Pietro lo sa bene in Emilia Romagna hanno il progetto sole per cui tutti i medici possono avere l'accesso ai dati sanitari di tutti i pazienti ok noi lo chiediamo da tanto tempo e da questo punto di vista ad oggi non c'è ancora stato ancora stato dato questa possibilità l'ultima tecnica perché io poi parlo sia da medico che anche da sindacalista che va ai tavoli tecnici in regione con le aziende per cercare delle soluzioni parlando di privacy ad oggi l'unica via che la regione Liguria ritiene per praticabile è quella del fascicolo sanitario elettronico se tutti di voi lo avete non lo so io ce l'ho l'altro giorno me lo sono andato a guardare quello che c'è scritto sono le ricette che mi sono state erogate le visite che mi sono state erogate ma non i referti cioè c'è la data che cosa ho fatto ma non c'è scritto che cosa c'è dentro ok per me medico sapere che quel paziente ha fatto l'anno prima una visita cardiologica me ne frega assolutamente nulla ne so quanto prima che prende i farmaci ma è giù che niente diciamo a Genova però da un punto di vista di pratica clinica mia non mi integra in nessun modo noi con difficoltà come medici di famiglia perché si vede un po' il medico di famiglia come il il medico nella sua stanza buia da solo che scriva penna siamo i medici più informatizzati di tutti perché noi tranne qualche collega dura a morire che ha computer leak con la polvere sopra abbiamo tutti una cartella clinica informatizzata da anni da vent'anni siamo gli unici perché ancora oggi i distretti non ce li hanno ok il dottor San Pietro lo sa io poi sono un po' polemico io ho decine di pazienti che vanno a farsi una visita in un ambulatorio da cui escono con un foglio non esce una prescrizione dematerializzata ad alcuni escono anche senza nessun foglio in mano ma magari con una prescrizione e quindi diventa praticamente impossibile pensare alla figura del medico come il medico singolo battitore che lavora a carta e penna perché non è quello che facciamo quotidianamente quantomeno su Genova non è così che lavoriamo poi la qualità del singolo medico quella c'è da tutte le parti cioè anche se uno va in ospedale c'è il medico migliore il medico che forse ha un po' passato la mano che c'era un po' meno voglia eccetera eccetera ma e questo non è un qualcosa che cambierà con l'eventuale dipendenza del medico è andato di fatto io la mia esperienza nella dipendenza è poca ce l'ho avuta col covid con i distretti e posso dire che non è stata neanche entusiasmante dal mio punto di vista perché l'idea del cartellino da timbrare dopodiché non è più il mio lavoro l'ho patita da medico che lavorava nelle scuole territoriali quando alle 2 il personale ASL timbrava e ad alle 2 e 0 e 3 le porte erano chiuse a chiave e io ero nella mia stanza da solo senza capacità di prendere informazioni attivare nuove cartelle attivare nuove pazienti quindi l'ho vissuta molto male questa cosa e quindi anche lì quando parlo con la popolazione dico sempre attenzione l'essere dipendente vuol dire che devo stare qui dentro da totora totora timbro esco cartellino non è sinonimo di qualità del lavoro detto questo il nostro qual è l'obiettivo quale dovrebbe essere il nostro parere sicuramente noi vediamo nelle case della comunità una grande possibilità per esempio per la continuità assistenziale per la guardia medica che ad oggi è sotto personale lavora in Liguria in maniera bizantina perché noi siamo l'unica regione che non ha ancora gli ambulatori di continuità assistenziale ma ha un lavoro solo domiciliare ok questo ormai non potrà più essere possibile perché l'accordo collettivo nazionale ultimo prevede espressamente la creazione degli ambulatori la nostra proposta è stata quella di creare gli ambulatori di continuità assistenziale all'interno delle future case della comunità in modo tale da sicuramente garantire la presenza dei medici all'interno delle case della comunità perché ad oggi non è così tanto garantita e garantirla 24 ore tutti i giorni altra cosa molto importante perché ad oggi questo non è previsto cioè nel senso si avranno le case della comunità non si saprà ancora anche da un punto di vista di specialisti eccetera eccetera chi metterci per quanto tempo se ci sono le coperture 24 ore se ci sono le coperture 7 su 7 e così via quindi l'obiettivo che noi dovremmo avere è prima di tutto capire quali sono i desiderati della popolazione cioè i desiderati della popolazione sicuramente questo lo vivo da medico non sono quello di avere oppure c'è anche quello di avere la visita sempre e comunque però non è questo l'obiettivo vero di salute a lungo termine per un paziente quindi bene la creazione di ambulatori H24 7 su 7 che possono sgravare il pronto soccorso d'altra parte noi dobbiamo capire che gli accessi anche scorretti all'interno dei pronto soccorsi fanno parte di un problema socioassistenziale più importante perché per chi ci ha bazzicato io per un po' al pronto soccorso della Galliera ci sono stato la quantità di pazienti che afferivano anche per fare prestazioni che non le venivano fatte perché il servizio sanitario non le garantiva in tempi normali che piuttosto aspettavano 12 ore per farsi la lastra al ginocchio che li faceva male da due mesi non sono minimamente residuali ce ne sono tante altra cosa in Emilia quantomeno nelle mie esperienze io ho uno dei miei più cari amici che è medico del pronto soccorso di Borogna quelle almeno vengono pagate col ticket in Liguria ad oggi i ticket nelle prestazioni del pronto soccorso benché sarebbero previsti a volte vengono fatti ma molto più spesso no e questo dal mio punto di vista è un incentivo a un scorretto accesso alla struttura del pronto soccorso assolutamente quindi dobbiamo capire quello che noi vogliamo fare anche perché se noi pensiamo al lavoro del nostro medico noi qua viviamo stiamo parlando in Via Torta in distretto 12 a poco distanza c'è quella che era la medicina di gruppo del dottor Brasesco che gli ho detto che lo vedo bene ma perché è andato in pensione da qualche mese e lo vedo decisamente più in forma è più rilassato poi c'è la medicina di gruppo del dottor Amato cioè ci sono dei centri veramente di eccellenza diffusi in questo territorio se noi pensiamo che la casa della comunità voglia dire la distruzione delle strutture esistenti adesso per concentrarle in zone decentrate rispetto a molte delle persone che abitano i distretti non possiamo noi essere d'accordo verso una situazione di questo genere è ovvio e questo purtroppo a livello e queste sono informazioni che vi do viste le contrattazioni che stiamo avendo in regione se ne parla molto poco sono in questo momento gli abspoke di cui parlava giustamente il dottor San Pietro che in teoria sarebbero tra virgolette dei luoghi di riferimento di quelli che sono i gruppi delle AFT le AFT sono gruppi di medici più o meno una ventina dei medici di famiglia che afferiscono una struttura diffusa sul territorio in questo momento molto poco sfruttate in Liguria ma esistenti e in teoria il DM77 e il PNRR soprattutto il DM77 prevederebbe che queste strutture abbiano come manifestazione diciamo non solo fisica ma proprio tecnica questi hub quindi un raccoglitore delle attività di queste AFT su questo sicuramente si potrebbe investire tanto come negli ospedali comunità di cui al momento delle contrattazioni regionali non si è mai parlato quindi noi non abbiamo mai parlato di come dovrebbero funzionare questi ospedali comunità in contrattazione regionale che poi la regione poi decide e invece dove noi diciamo mettiamo molto importanza perché secondo noi sarebbero delle strutture veramente importanti e parlavo di finanziamenti allora nel 2021 i finanziamenti in regione Liguria per tutta la medicina territoriale che vuol dire medicina generale pediatra libera scelta emergenza quindi 118 sono stati 164 milioni di euro che è una percentuale variabile tra il 4 e il 5% di tutto l'investimento sanitario regionale di quell'anno che sono 3 miliardi e 700 milioni allora noi parliamo sempre della medicina territoriale come quella che durante il covid è fallita che non riesce a tenere la popolazione che non riesce a dare soddisfare i bisogni alla popolazione siamo una delle regioni che ha meno finanziamenti sulla medicina territoriale d'Italia non solo di stipendi ma proprio perché questi non sono le stipendi questo vuol dire stipendi infermieri autisti sedi cioè questo vuol dire tutto sono investimenti omnicomprensivi della medicina territoriale ok di queste tre branche della medicina territoriale quindi noi pretendiamo sostanzialmente che abbiamo preteso sostanzialmente che una struttura depotenziata malorganizzata poco finanziata risolvesse i problemi quando poi un grosso problema che noi avevamo da persone che non hanno mai smesso di lavorare mentre il distretto è anchiuso durante il covid io ero in studio il distretto era chiuso l'ambulatorio era chiuso sono stati chiusi sei mesi l'ambulatorio distrettuale io ero nel mio ambulatorio lavorare quindi detto questo noi dobbiamo considerare che abbiamo una struttura veramente che ha tante potenzialità che però devono prevedere anche degli investimenti a oggi così parlando tra amici con persone che sanno di quello di cui stiamo parlando questi fondi che sono i fondi nazionali con piccole integrazioni regionali abbastanza residuali non si decide di aumentarli in nessun modo quindi noi dovremo in futuro creare delle progettualità con lo stesso paniere economico perché in regione ci hanno già detto che nuovi soldi non ci saranno quindi io trovo anche complesso andare a progettare un qualcosa di veramente efficiente se non prevediamo un modernamento dei sistemi un modernamento della componente comunque economica di investimento ai fini di potenziare il servizio ok ed è questo il nostro obiettivo finale senza questo noi avremo probabilmente le case della comunità che saranno delle scatole vuote dove qualche medico andrà ribadisco medici residuali dove si spera invece ovviamente di avere un riferimento più semplice anche per noi che non ci andremo a lavorare comunque di comunicare con determinati specialisti ambiente socio-sanitario eccetera d'altra parte se come sembra l'obiettivo sarà comunque tutti andare a fare dei turni all'interno della casa della comunità per tenerle aperte di contro il servizio che noi garantiremo ai nostri pazienti dei nostri studi sarà il mio onore perché se sono nella casa della comunità il telefono non lo guardo nemmeno le mail non ne parliamo non rispondo più a nessuno perché non posso farlo visiterò i pazienti di tutti non più i miei pazienti io non so se poi ognuno poi ha le proprie esperienze col proprio medico ed è molto variabile non so se poi questo è il desiderato alla popolazione sicuramente si può fare per tamponare un'emergenza che sono gli accessi in proprio pronti soccorso e su questo siamo d'accordo e si possono utilizzare delle strategie ottimali sono ho molte difficoltà a pensare a rivedere completamente il nostro ruolo all'interno di queste strutture se non arrivare ai volumi di lavoro che hanno l'area quindi tutti diventano casa della salute e tutti diventano poi eventualmente casa della comunità o quantomeno non tutte ma se potenziamo per dieci volte l'esistente o quello che è progettato allora parliamo di un'altra cosa perché io pensare che solo i pazienti cioè un paziente di via Isonzo per andare al proprio medico debba andare in via Sarotti la trova francamente una follia e non credo che possa essere fattibile come cosa quindi in questo caso io vedo nelle potenzialità tante potenzialità più facilità di avere un rapporto multidisciplinare con gli specialisti che questo è fondamentale perché in questo momento è praticamente impossibile avere un rapporto con gli specialisti e una speranza di un investimento maggiore da parte dei distretti proprio sul territorio perché al momento abbiamo veramente difficoltà a seguire i nostri pazienti a domicilio pazienti fragili pazienti anziani che in questo momento a domicilio non sono seguiti quindi noi vediamo le potenzialità difficilmente vediamo il nostro lavoro traslato in toto in queste strutture perché se no si perde la territorialità grazie grazie è stato molto interessante sentire il tuo punto di vista una cosa che vorrei ricordare come a proposito della prossimità il il PNNR teoricamente prevederebbe oltre alle case hub alle case comunità a quelle SPOC addirittura di primo e di secondo livello parla il piano sanitario regionale e quindi diciamo strutture in cui più vicine al territorio più vicine alla e chiaramente è un problema ed è devo dire che di questo sul piano sanitario regionale non c'è minimamente traccia nel senso che il piano sanitario regionale ha una delibera legata in cui dice gli indirizzi delle future 32 mi sembra case di comunità della regione Liguria per quanto riguarda invece le case di comunità SPOC cioè quelle più vicine al cittadino non ce n'è minimamente traccia c'è il copio in colla del DM77 come c'è il copio in colla della parte del DM77 che le cita e le definisce non è quello proprio il copio in colla lo so l'avevo visto tutti nel senso chi ha un po' studiato i documenti può dire che è il copio in colla della mezza pagina del DM77 in cui definisce a grandi linee E questo qui vuol dire che è un piano sanitario che non programma un'assistenza territoriale di tipo nuovo Devo per forza lasciare un attimo la parola però vorrei anche poi alla fine Anche perché tra poco vi devo lasciare Scusate perché devo andare a prendere mia figlia che ha finito in sala operatoria adesso a lavorare a San Bertino e devo andare a prendere Anche lei nota benissimo No volevo per completezza dire che l'affronto fatto dal collega ovviamente è riferito al distretto 11 ovvero sia il distretto che dal punto di vista territoriale è il più piccolo come sviluppo di superficie del almeno dell'altre per esempio nel non so faccio riferimento a un altro distretto il distretto 8 quello più apponente in questo caso gli spoke sono ben 8 oltre ovviamente a lab quindi in realtà le realtà sono molto differenziate anche in base al territorio l'altra considerazione che faccio rispetto ovviamente collega anche sindacalista e quindi porta avanti delle istanze corrette della categoria in uno scenario qual è quello attuale in cui appunto non riusciamo più a segnare numerose zone carenti soprattutto quelle meno appetibili che sono quelle delle periferie che sono quelle delle valli interne diciamo un assetto che non riunisca le risorse per offrirle su indicazione ovviamente del bisogno che è identificato dalla ASL là dove servono finirebbe per fare per diciamo abbattere quello che è il principio di uguaglianza ed equità perché ci sarebbero cittadini di categoria A quelli che vivono nel centro città che hanno un'offerta di prossimità migliore e cittadini di serie non B ma addirittura C quelli che vivono nelle valli in particolare nelle aree più interne quindi è per questo che bisogna assolutamente pensare ad un rinnovo della riorganizzazione è inutile che i medici non aumenteranno diciamo le proiezioni ci dicono che se mi ricordo bene sino al 2028 non ci sarà corrispondenza fra pensionamenti e numero di colleghi che entrano nel triennio quindi però davanti ci abbiamo ancora cinque anni cinque anni in cui il numero di medici di medicina generale si ridurrà progressivamente e non sarà sostituito è chiaro che questo ci deve fare riflettere se vi ho rubato il tempo ma vi devo lasciare mi dispiace non sentire mi dispiace che non riuscirà a sentire il dottor Braselso perché veramente ci illuminerà no quello che volevo dire è che però tutto questo dimostra come c'è una carenza di programmazione in quel documento che è il piano sanitario che dovrebbe dare delle risposte a questi a questo tipo di problemi io però vorrei sì io credo che siamo vicini alle sette e sia il caso poi di sentire un attimino cosa le domande eventualmente io comunque diciamo come è stato già detto sono ormai in pensione da un paio di mesi cioè ho disdetto diciamo la convenzione con l'AS il 31 agosto di quest'anno e posso così fare qualche osservazione aggiuntiva diciamo a quello che è stato detto un po' sulla base anche della mia esperienza diciamo più che trentennale diciamo che la cosa che la prima cosa che mi viene in mente è che in questi trent'anni diciamo di professione io da una parte ho avuto come dire delle tentative delle esperienze dei tentativi diciamo di auto organizzazione di gruppi di medici di famiglia di cui ho fatto parte o di cui sì diciamo di cui ho fatto parte che avevano come obiettivo come dire la traduzione concreta di quelli che sono i compiti del medico di famiglia che erano ieri ma che lo sono anche oggi e del territorio e che sono l'accoglienza delle cosiddette urgenze non differibili che tradotto vuol dire essere presenti in studio tutti i giorni perlomeno dal lunedì al venerdì con un orario adeguato e con una magari accessibilità adeguata nel caso della medicina di gruppo che è estesa a sei o almeno sei ore al giorno di apertura diciamo quella che viene anche chiamata medicina di attesa cioè per rispondere alle richieste quotidiane che pervengono al medico di famiglia attraverso ormai molti canali forse troppi diciamo una volta era solo il telefono e l'accesso diretto in studio senza appuntamento poi mano a mano si è aggiunto un sistema più regolato dell'appuntamento e magari altri sistemi di contatto che sono la mail piuttosto che whatsapp o altri sistemi di comunicazione analoghi quindi questo primo compito secondo me ci sono state nella nostra città delle esperienze e ci sono ancora delle esperienze soprattutto di medicina di gruppo che non dico che lo abbiano sviluppato al 100% però hanno tentato di svilupparlo in maniera significativa l'altro compito del territorio è quello della prevenzione a largo raggio la prevenzione a largo raggio significa questo significa che prevenzione vuol dire prevenzione della malattia ed è la prevenzione primaria e sono gli stili di vita l'educazione diciamo alla salute se poi vedo un medico per l'ambiente qua davanti se poi vogliamo anche pensare a una prevenzione ambientale è ancora un concetto ancora più ampio ma esiste poi la prevenzione diciamo secondaria che è l'evitare che una patologia già in atto possa peggiorare in maniera rapida e significativa il che è un danno per il singolo paziente ed è un danno per il sistema sanitario perché è un costo è un costo molto elevato una persona con diabete che non si cura va in conto per esempio a problematiche tipo devi andare va in conto a una mutazione di un'arto a causa del mancato trattamento preventivo e questo diventa poi a parte diciamo la fase acuta diventa comunque un costo sociale e sanitario molto elevato quindi questo è l'altro aspetto sul quale i medici famiglia sono in grado di agire o che adeguatamente organizzati tutte queste due cose qui si riassumono nella fase della presa in carico la presa in carico dal punto di vista della medicina generale è il come dire avere per ogni assistito che può anche essere sano un percorso predisposto diciamo un percorso di prevenzione e di accoglienza cosa serve per essere organizzati beh diciamo che servirebbe a livello come dire di territorio quella rete a cui si faceva accenno prima rete informatica diciamo intesa come condivisione delle cartelle cliniche di ciascuno di noi con gruppi di professionisti sanitari diciamo non solo di medici di famiglia ma anche degli specialisti ora ho sentito che l'unico strumento attualmente previsto dalla nostra regione sarebbe il fascicolo sanitario elettronico che direi che è totalmente insufficiente per com'è strutturato adesso posso dire che tecnicamente strumenti software o piattaforme di condivisione ce ne sono ce ne sono più di una e non sono neanche particolarmente costose bisogna solo prenderle in considerazione l'altra l'altra cosa importante è la telemedicina di cui si parla spesso a sproposito secondo me ma che in realtà potrebbe essere uno strumento di miglioramento del rapporto soprattutto con gli specialisti la collega di Parma parlava del fatto di essere del vantaggio di essere fisicamente nello stesso luogo bene allora questo è sicuramente un vantaggio però mi viene da dire nel 2023 sentire che il vantaggio è essere vicini fisicamente mi fa un po' come dire inorridire perché la perché voglio dire i sistemi informatici dovrebbero consentirci di sentirci di essere comunque vicini agli specialisti in questo caso quando abbiamo bisogno di un consulto il problema è solo tecnico e anche organizzativo ovviamente della reperibilità cioè se io ho una persona per la quale ho bisogno di fare un consulto con una consultazione diciamo con per esempio per un problema di tiroide con un endocrinologo 99 su 100 non ho bisogno della visita fisica ma ho bisogno semplicemente di condividere degli esami oppure di condividere un piano di esami diagnostici da fare e questo lo posso fare tranquillamente con un teleconsulto poi esiste anche comunque la possibilità di visitare diciamo un paziente virtualmente diciamo con 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 altri strumenti ma diciamo che in maniera già molto utile sarebbe sarebbe già molto utile diciamo poter disporre di un sistema di teleconsulto e di telerefertazione vengo all'ultimo all'ultimo aspetto che è stato un po' citato quelle delle case della comunità SPOC e delle AFT perché in effetti anche secondo me come diceva il dottor Polese diciamo il il piano sanitario regionale si ha focalizzato molto diciamo ha strutturato molto bene la rete molto bene diciamo dal punto di vista teorico la rete delle case della comunità AB cioè quelle case della comunità che sono sostanzialmente corrispondono con le attuali sedi distrettuali è qualcosa di più quindi per chi abita in questa zona via Archimede via Archimede dovrebbe diventare una casa della comunità dove si trovano sostanzialmente gli stessi servizi che ci sono adesso più probabilmente un servizio di continuità assistenziale cioè di un ambulatorio di continuità assistenziale che è quello che dovrebbe essere frequentato anche da medici di famiglia diciamo quello ha un senso perché sabato e domenica o anche durante la giornata feriale se io non trovo il mio medico e so che però non lo trovo perché per vari motivi diciamo perché non è l'orario magari lui fa ambulatorio di mattina non c'è di pomeriggio e viceversa e ho un dolore importante per il quale voglio farmi vedere e so che in via Archimede trovo un collega del mio medico che è in rete e quindi può vedere la mia cartella clinica e quindi se vado non sono uno sconosciuto totale ma diciamo in qualche modo questo medico può sapere molte cose di me anche di quelle che non mi ricordo magari ecco allora se so questo chiaramente non vado al pronto soccorso in prima battuta ma vado lì e questa è la funzione diciamo della casa della comunità è una delle funzioni della casa della comunità AB la Spocchio invece dovrebbe essere auto organizzata dei medici casa della comunità Spocchio uguale a FT cioè gruppi di 20 medici che organizzano la presa in carico come vi dicevo prima della prevenzione quello dovrebbe essere e questo mi pare che sia totalmente ignorato perché come dicevate c'è una descrizione nel piano sanitario regionale ma poi non c'è un tentativo a livello pratico di individuarle queste case della comunità Spocchio perché ci sono le medicine di gruppo che hanno dei locali che sarebbero per esempio sufficienti per organizzare questo tipo di servizio io lo so nel senso che avendo come dire molti contatti con quasi tutti i colleghi genovesi ho un'idea quelle 70 medicine di gruppo 70% scusate di medici che sono medicine di gruppo buona parte li conosco e so anche che alcuni di loro avrebbero delle sedi adatte oppure so che alcuni altri di loro cercherebbero volentieri delle sedi più ampie dove poter esercitare questa funzione di prevenzione e presa in carico dei pazienti soprattutto dei pazienti che avranno in cibo ma nessuno li li cerca e con questo chiudo sono già diungato chiude il prevence siamo ancora in collegamento la collega la dottoressa Crialesi sì ci sono allora dovrete aver sentito i vari interventi ecco cioè qui naturalmente adesso abbiamo soltanto il dottor Brasesco che ha avuto la vontà di fermarsi mentre gli altri due colleghi avevano degli impegni e sono scappati via però rispetto se tu vuoi dire qualcosa rispetto a quello che hanno detto gli insieme poi magari possiamo anche ripeterci un po' e intanto cioè ti volevo chiedere questo rapporto di collaborazione tra con gli specialisti con i servizi sociali ma anche con gli infermieri con qualcosa è una cosa che si riesce a realizzare da voi in maniera abbastanza semplice perché io non penso che il problema sia la vicinanza fisica o il esatto allora allora è una questione di di vision di visione di obiettivi perché in realtà la coesistenza è un di cui è chiaro che in allora io non entro come dire nel merito delle delle problematiche relative a Genova o comunque della vostra regione perché francamente poi non le conosco quindi sarei fuori luogo sinceramente e capisco però che ogni territorio cioè che più più largamente diciamo in Italia non c'è un servizio sanitario nazionale ce ne sono ce ne sono tanti che sono quanti sono le regioni perché poi ogni regione declina i vari piani il piano nazionale secondo le proprie le proprie esigenze il proprio territorio la propria visione e quello che è allora la coesistenza è un di cui io mi sottolineo la faccenda della coesistenza non tanto per quanto riguarda gli specialisti perché sul discorso della telemedicina è chiaro che alcune che soprattutto su determinate su determinate cose telefonare o avere comunque un contatto che non è la visita perché tante volte appunto non è necessaria non solo aiuta ma insomma è importante lo sottolineo soprattutto dal punto di vista del servizio sociale perché il sociale ha un modo completamente diverso dal nostro dal sanitario di lavorare per cui confrontarsi fisicamente cioè proprio nella stessa stanza su determinate cose determinati aspetti adesso non lo so faccio per dire mi è capitato di recente no amore sto parlando no amore devo parlare guarda saluta saluta questi signori saluta ciao posso finire di parlare devo dire una cosa a questi signori dopo arrivo e questi sono sempre quelli che hai disegnato tu amore per favore scusate allora no dicevo scusate mi è entrata in stanza e no dicevo accidente perso il filo no per esempio mi è capitato mi è capitato di recente con non lo so una paziente che con un deterioramento cognitivo che non poteva più stare nell'ambiente familiare perché era diventata violenta nei confronti del marito io poi anche lì non ci metto becco perché alle volte uno può avere anche ragione ma comunque e insomma dove dove la si mette dove non la si mette mi hanno parlato personalmente con il servizio sociale con l'assistente sociale di riferimento di questa paziente e insomma abbiamo cercato di cucire addosso a questa signora un progetto che potesse essere che potesse essere praticabile prima che l'assistente sociale vedesse la famiglia cioè a dire sono andata a casa della signora ho valutato ho visto vado dall'assistente sociale e le dico guarda che secondo me tu hai l'appuntamento domani o dopo con la figlia di questa donna e ti spiego cosa succede così cerchiamo anche di evitare di perdere tempo perché è una situazione che deve stabilizzarsi con la terapia farmacologica insomma quello che vuoi ma in questo momento è così proprio perché appunto c'è un problema di di accessibilità anche dei servizi no perché sono tutti intasati al di là del sanitario parlo appunto soprattutto del sociale e tante volte riuscire a rapportarsi col servizio sociale in una maniera un po' più semplice che non sia scambio di mail telefonate aspetta che ti richiami poi quando richiami non riesci a rispondere insomma tutta una serie di cose da questo punto di vista devo dire che la coesistenza aiuta molto ma non è l'unico aspetto come dicevo l'aspetto fondamentale è proprio di vision cioè di come vedi la famosa presa in carico dell'assistito il discorso che diceva adesso il collega scusami non mi ricordo come ti chiami ho ascoltato ma non mi ricordo come ti chiami Claudio scusami grazie del medico chiamiamolo medico epidemiologo tra virgolette cioè del medico che è in grado di stratificare la popolazione dei propri assistiti è un aspetto fondamentale di questo tipo di approccio perché ti permette di vedere prima di vedere prima tante situazioni o tante potenziali situazioni che si possono venire a creare con l'assistito con la persona con la famiglia e non solo di salute perché insomma il grosso salto di qualità è la presenza del sociale e del terzo settore perché anche i volontari sembra una cosa una cosa di secondaria importanza ma non la è per tornare scusate alla domanda si riesce a collaborare si riesce a sì si riesce è chiaro di fatto è un lavoro in più nel senso rispetto a mettersi lì fare le proprie ore di ambulatorio guardare le proprie mail rispondere al telefono e fare tutto da medico singolo questo tipo di lavoro necessita di più tempo cioè si lavora di più però sono cose che ti ritornano ti ritornano come soddisfazione ti ritornano come organizzazione e ti ritornano appunto come presa in carico dell'assistito io forse sono troppo ottimista cioè mi rendo conto che sembra una cosa sembra tutto rose e fiori non lo è cioè attenzione non parlo io sto parlando degli aspetti positivi perché ovviamente credo e penso che siano almeno nel nostro caso ribadisco il territorio fondamentale in questo però almeno nel mio caso nel nostro caso siano siano molti di più rispetto agli aspetti negativi poi che sia tutto rose e fiori siamo d'accordo che non è così ok grazie moltissimo Ilaria ti ringrazio molto io volevo a parte ci sono un paio due o tre interventi qui dalla sala io volevo sottolineare come è veramente riduttivo pensare all'AFT come nel suo modo con cui penserei la casa della comunità Spock la casa della comunità Spock è un momento di interdisciplinarietà un momento in cui più vicini al cittadino però ci sono le figure la possibilità di avere l'infermiere l'assistenza sociale il dialogo con con gli specialisti eccetera la presenza magari degli specialisti anche in maniera magari meno 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 duratura che in quella hub cioè quindi vederle in maniera come delle piccole case di comunità cioè più vicino in cui ci sono meno tra l'altro non le stiamo inventando nel PNR c'è scritto e tra l'altro queste cose qui visto che il piano sanitario regionale le ha ricopiate ci sono anche nel piano sanitario regionale senza però dire dove e quando si possono fare io adesso però do la parola mi sembrava che ci fosse prima io e poi Carlo Benzano che freme allora io sono un po' preoccupato perché un sistema sanitario che non è stato capace di progettare la formazione di medici di infermieri è una cosa pazzesca quindi se siamo a questo punto c'è qualcosa che veramente non funziona è terribile altro che casa della comunità direbbe Vittorio casa della comunità se devi fare una ecografia ti mandano fino a Rapallo una cosa eccetera presso una struttura privata c'è qualcosa che veramente non funziona ecco e allora la mia cosa è questa un po' alla fine con il discorso della dottoressa adesso un po' quello di Brasesco prima sono usciti allora noi dovremmo rifare richiamare il medico portoghese il medico portoghese ci ha detto tu c'eri quell'occasione lì ecco lui ci ha detto allora dare il nome a questa cosa casa della comunità ha un significato semantico particolare casa della comunità che è una cosa però ricorda dei significati che dava il portoghese il quale aveva dei piani ben precisi dicendo questa è la situazione della salute in questa zona noi abbiamo tanti diabetici se ne sono dieci li vogliamo portare a tre che cazzo di progetto facciamo lo facciamo così con questo con quell'altro eccetera eccetera se è così ha senso soprattutto il resto è una puttanata abbiate pazienza prendere Archimede fare cose del genere e chiedere provato io è una vita che non ci vado faceva schifo non so come sia adesso ecco per favore richiamiamo il nostro amico portoghese facciamoci italiano fra l'altro no dottor gliozzi lo chiamiamo ci facciamo raccontare loro stavano progettando e la facevano non era un sogno questo è il discorso non era un sogno era una realtà ce l'ha dimostrato con le sue cose dottor Benzano allora io mi associo alla preoccupazione per non dire alla rassegnazione di cui parlava Tonino Gambale per lo stato del nostro servizio sanitario nazionale che ha delle eccellenze e comunque continua a dare delle risposte sicuramente buone quasi tutto il paese per quello che riguarda le acuzie le grosse patologie quello che mi sembra tutti riscontriamo è un deterioramento della assistenza della condizione comune della quotidianità della quotidianità che va dalla che diceva dottor Brasesco dalla prevenzione alla presa in carico l'assistenza continua ai fragili eccetera io però ho un'impressione sono un po' anziano un po' vecchio come fosse un po' ma di questi discorsi di parole hub spoke l'abbia sentito parlare da 30 anni 40 io dal 1971 eh io vi invito a leggere se non l'avete fatto due pagine che sono comparse oggi sul quotidiano Repubblica Genova che riguardano la relazione che è stata fatta alla conferenza della Confindustria Sanità Ligure e una intervista al proprietario direttore di eh come si chiama eh casa della salute si chiama così è una roba eh no che hanno aperto a due eccetera eccetera privata va bene se voi leggete quello si dice il privato è pronto a prendersi carico della medicina territoriale della psichiatria della disabilità psichiatrica dei disabili e delle fragilità degli anziani il dottor Pallavicini eh segretario della eh conferenza Ligure Confindustria Sanità Accanto c'è il Frattonandi come si chiama il proprietario e amministratore delegato di case della salute che il quale dice nell'ultimo anno abbiamo aumentato il fatturato del 33% stiamo programmando l'assistenza territoriale quotidiana in accordo con le farmacie per avere un eh spunti di eh prenotazione eh telematici per i nostri servizi eccetera eccetera allora noi facciamo tanti discorsi sul come fare non fare eccetera eccetera ma questi vanno avanti concretamente e la c'è scritto nell'articolo che l'amministrazione regionale ha a disposizione ha messo a disposizione Stato più regione 25 più 15 non so se sono milioni o miliardi saranno milioni miliardi forse troppo perché miliardi essere milioni per i convenzioni per ridurre le liste d'attesa ai privati quindi il progetto sperano socio sanitario è carta straccia perché gli atti di fatto che si stanno facendo sono questi sono questi sono questi io dico che qualche piccola cosa che non costa perché poi non andiamo a parlare cosa si può fare e una cosa lo dico a Brasserco che ha fatto più a lungo di me io l'ho fatto per 20 anni poi non l'ho più fatto ho fatto solo l'ospedale prima facevo l'ospedale il medico di famiglia la valorizzazione del medico di famiglia chiamiamolo di base ora si chiama ma del medico di famiglia questa pletora di specialisti che servono soltanto per trascrivere delle prescrizioni che il medico di famiglia non è autorizzato a prescrivere ma questi qui li mettiamo a lavorare perché per prescrivere l'insulina glargine il dottor Brassesco è in grado e questo fatto ha determinato secondo me queste non so se sono mie fantasie ma una ulteriore diminuzione dell'autorevolezza non l'autorità dell'autorevolezza del medico di famiglia nei confronti del paziente perché se io che ho 20 anni e vado da un medico che non ho mai conosciuto e questo mi dice sai io non posso prescriverti questa medicina devi andare dallo specialista e io che invia mi faccio di questa persona e quando mi fa male un ginocchio vado là e gli chiedo mandami dall'ortopedico e allora e gli esami inappropriati gli chiedono di più gli specialisti rispetto al medico di famiglia perché non conoscono la persona non conoscono la famiglia non conoscono la psicologia eccetera eccetera perché io ci scommetto quello che si vuole che se mangi una persona dall'ortopedico per chiamare un ginocchio esce con la prescrizione di risonanza magnetica giusto è variato così come esce dal pronto soccorso mentre dal medico di famiglia può dire stanno impassentini tu lo sai che l'altro giorno hai preso un colpo e ti fa un po' male il ginocchio vediamo un po' come va ci mettiamo un po' di arnica stai un po' attento può darsi che se tra 15 giorni non ti fa più male è finita questo aspetto qui se non c'è il rapporto di fiducia continuo quindi non i più medici che curano una persona ci deve essere un rapporto personale poi c'è la medicina di gruppo che io sono d'accordo di gruppo nel senso per offrire una maggior presenza temporale nel corso della giornata della settimana ma sono tutte cose che i medici facevano perché quando non c'era la guardia medica fino al 1974 i medici di un rione si mettevano d'accordo tra di loro e lasciavano al servizio di segreteria telefonica il numero di telefono del collega per la domenica quindi si possono fare certe cose senza spendere tanti soldi senza tanti investimenti di soldi qualche piccola cosa si può fare se diamo al medico di famiglia una maggior autorevolezza e io dico sul piano della formazione anziché formare tanti specialisti formiamo di più il medico di famiglia con l'esempio della Francia per quel poco che posso sapere io in Francia il rapporto tra il medici di famiglia e specialisti è molto a favore dei medici di famiglia quantitativamente e anche qualitativamente nel senso che per curare il diabete non ci vuole sempre messo in piedi con il fatto che per prescrivere il che so dal poco di forzini ci vuole lo specialista ma perché allora il medico di famiglia cosa fa se non cura il diabete l'ipertensione ci sono i centri per l'ipertensione i centri per la diabetologia i centri per l'endocrinologia i centri per l'obesità i centri per la demenza ragazzi prendiamo queste persone riduciamo il numero di quelli che lavorano lì e il medico di famiglia li manda solo quando c'è un caso un po' eccezionale particolare eccetera e vanno a fare il medico generalista che è internista generale queste cose si possono fare senza spendere una lira comunque leggeteli quello che c'è scritto su Repubblica perché quello lì è quello che al di là dei discorsi si fa giorno per posso dire una cosa grazie Carlo sì di pure Ilaria io sono d'accordo con ogni singola parola che è stata appena detta e non solo cioè c'è un altro aspetto che molto spesso ahimè la richiesta di rivalutazione o valutazione specialistica ulteriore molto spesso purtroppo viene dagli stessi specialisti e questa cosa qua crea un vortice di di cure frammentarie di di valutazioni e allora lo pneumologo che poi lo manda dal cardiologo che poi lo manda dall'endocrinologo che poi a un certo punto finisce al neurologo insomma c'è un casino della miseria e ahimè il medico di medicina generale scusate mi sentite forse mi avete perso e ahimè il medico di medicina generale in questo ha perso ha perso la sua veramente autorevolezza la sua la sua presenza che in realtà è fondamentale perché è dovrebbe essere il medico collettore no? è quello che davvero guida tutto quanto cavoli mi sono dimenticata volevo dire un'altra cosa scusate che mi stavano telefonando da un'altra parte mi sono persa e detto ciò anche c'è un altro c'è un altro aspetto secondo me che è fondamentale della medicina generale italiana che è il discorso del rapporto di fiducia della scelta e questa cosa qui l'abbiamo solo noi perché non esiste da nessun'altra parte cioè io scelgo il mio medico e quindi questo crea un rapporto di fiducia che che va al di là dell'avere presente in medicina di gruppo un altro collega che ti può che ti può valutare perché non è la stessa cioè non è comunque la stessa cosa se c'è rapporto di fiducia non parlo di rapporti morbosi parlo però di rapporti di fiducia veri e propri nel senso dell'autorità dell'autorevolezza del medico di famiglia la nostra azienda in questo momento si sta muovendo per cercare di darci una serie di strumenti proprio a noi medici di medicina generale e di anche formazione relativamente a questi strumenti faccio non lo so l'ecografo l'elettrocardiografo tutta una serie di cose che migliorano la nostra autorità e autorevolezza ultima cosa non voglio essere polemica però un pochino sì la CN ahimè è un po' fuorviante da questo punto di vista perché purtroppo con la faccenda della reperibilità dalle otto alle dieci e quest'altro effettivamente può favorire alcuni comportamenti che magari non sono non fanno parte un po' di questa visione del medico di medicina generale che è il mio non che la CN abbia questa finalità però può essere letto anche in una maniera di quel genere lì e questo qui ci crea i pasticci che poi dopo in parte portano la persona ad andare in pronto soccorso perché tanto il medico mi ha detto che non mi ha risposto non l'ho trovato non c'è qualcuno lo fa apposto qualcuno ci fa dentro per l'amor di Dio sto parlando degli assistiti delle persone in generale però devo dire che se poi noi dal punto di vista della CN siamo a posto allora qualcuno può anche alzare le mani per me non è così ribadisco sono d'accordo con la visione del collega che è stata appena detta scusate posso aggiungere una cosa come paziente in questo continuo rimando da uno specialista all'altro chi si perde completamente è il paziente perché non sa più a chi riferirsi anche in questo senso il medico di medicina generale dovrebbe essere fondamentale perché il paziente non ha proprio la capacità le competenze per poter collegare uno specialista all'altro grazie allora io ringrazio moltissimo Ilaria e do la parola a Bruno che direi che con cui concludiamo la serata non lo so io volevo io volevo sì lo so me ne rendo conto abbiamo anche da quel signore che sta esatto esatto a questo sì sì a questo signore qua che si chiama dottor San Pietro una cosa che voglio dire così per la cronaca e per rifletterci è che dobbiamo chiedere ai nostri conferenzieri di rimanere sino all'ultimo è veramente come posso dire è veramente è come un autoboycottaggio che durante le presentazioni vengono fuori elementi uno se li annota perché vuole metterli in discussione alla fine non ha più interlocutori davanti per cui dobbiamo rifletterci e veramente chiedere che le prossime conferenzieri mettano per iscritto come la nostra brava Ilaria non l'ha messo per iscritto ma l'ha fatto di fatto se ne stanno sino alla fine detto questo io volevo fare un'osservazione tra le moltissime perché ovviamente alle 7.20 bisogna essere brevi che è quella di riportarmi a un numero magico che è uscito fuori involontariamente durante la discussione di questa sera 60% allora a Parma come abbiamo visto e come ci può confermare Ilaria ci sono 128 medici di medicina generale nella città di Parma per 285.000 abitanti qua abbiamo visto che i medici di medicina generale sono 453 a Parma il 60% dei 128 ce l'ha detto uno dell'ASL un dirigente dell'ASL appartengono nel senso che lavorano dentro le case della salute quelle stesse case della salute che presto diventeranno case della comunità il 60% di 128 hanno trovato che il discorso che faceva prima il dottor Polese non ha senso ora io non so perché i medici di Parma siano così masochisti però intanto il 60% sta nelle case di salute il 60% dei 453 a Genova sta nella medicina di gruppo ecco soltanto questi due paragoni illustrano tutto il lavoro che bisogna fare per cambiare l'etica l'approccio la visione dei medici di Genova perché sinceramente io questo non posso evitarlo di osservare se veniamo dal Covid e non ci ricordiamo che i famosi medici di gruppo chiudevano gli ambulatori uno dietro l'altro e non avevano neppure il protocollo di trattamento omogeneo che in altre regioni veniva distribuito e imposto nelle mani dei medici se questi discorsi come posso dire di minima osservazione critica di quelli che sono i limiti della medicina di gruppo cioè di non confrontarsi con una dipendenza un'autorità un confronto che voglia dire sanità pubblica al primo posto qua abbiamo veramente ancora confermata poi da da San Pietro questa come possibile attitudine che è quella ci muoveremo perché ce l'ha detto il decreto ministeriale quindi le dovremo fare queste case della comunità ma ci muoviamo con una indeterminatezza così profonda che è perfettamente giusto quello che dice Carlo Benzano l'unica spiegazione che si possa dare per un comportamento talmente irresponsabile che non traduce ciò che è un programma in piani obiettivi e quantità è perché da un'altra parte che la mano destra e la bocca nella parte destra dice una cosa la bocca dalla parte sinistra e la mano dalla parte sinistra aiuta la medicina privata e lascia la medicina privata agire quindi siccome io penso che i medici 128 di Parma non siano né degli eroi né delle persone strane ma che in 60 hanno aderito a fare del loro punto fondamentale la casa della salute e l'interprofessionalità che questo vuol dire già nella casa della salute fare i conti con l'infermiere fare i conti con tutto quello che è stato detto prima io siccome li penso non come degli eroi e non lo sono io credo ma solo degli onesti professionisti non si capisce perché qua invece abbiamo 453 che per il 60% fanno i gruppi la medicina di gruppo e non si pongono manco il problema che ci stanno ci stanno e ci ristanno nelle case della comunità hub e spoc 450 ci stanno ad abbondanza volevi dire qualcosa tu allora io chiudo è molto tardi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ringrazio in particolare il dottor Brasesco che ha avuto la correttezza di fermarsi fino alla fine con noi e soprattutto ringrazio la collega Ilaria Crialesi da Parma e grazie mille per la sua partecipazione grazie a voi il prossimo incontro sarà il 13 di dicembre sulla figura dell'impermiere di comunità nelle case di comunità